Siamo alla Balza Gradina. Se vi ricordate, 24 ore dopo le forti precipitazioni che hanno messo in ginocchio Siracusa e che soprattutto hanno avuto nella Borgata, nella zona di via Premuda, il caso più eclatante di danni, comunque di allagamenti, con l'acqua alta anche oltre un metro, abbiamo visto, visitando quei luoghi, come si stia facendo strada un sospetto. Quello che a causare l'allagamento, perché ha contribuito ad occludere quelle che sono le grate, le catitoie per l'acqua piovana, possa essere stata della, chiamiamolo così generalmente, della vegetazione tagliata, quindi verde pubblico, da un'area pubblica, la Balza Gradina, ma non raccolta. Poi le acque l'avrebbero spinta attraverso via Torino, da quelle parti, giù fino in Borgata, dove si è venuto a creare quella situazione che ricorderete attraverso le foto che vi abbiamo mostrato, i video, le parole dei residenti e in effetti visitando sul posto qui, la Balza Gradina, ecco, che qualcosa si sia spostato da qui, qui ci sono le siepi, i verdi, sono state potate, gli alberi tutto a posto, pulito perfetto, invece guardate qui, ecco, questi sono stati tagliati, da qualche parte evidentemente arrivano, potrebbe essere anche questo, semplicemente un sospetto, ma è immediato, le siepi sono qua, quindi sono state potate, è stata ripulita la vegetazione qui della balza, ma è rimasto tutto tutto qui, ed è tutto spostato, vedete, sul bordo, quindi vuol dire che è stato spinto dall'acqua, trascimato anche fuori, perché sul marciapiede anche lì sono evidenti i segni della presenza di questa massa che poi è andata a bloccare, a ostruire le catitoie, insomma, potrebbe essere davvero qui allora parte, attenzione, si va di bene, parte del problema, certo non quello principale per cui la città è andata letteralmente sottacco, però a proposito di sottacco, vedete, sotto quell'auto, questa auto grigia posteggiata, lì c'è una grata completamente chiusa, ostruita da questo materiale, da questi sfalci di potatura, non saprei come definirli, qualcuno dice responsabilità del verde pubblico, perché qui sono state tagliate le siepi, è stata pulita la zona, non è stato raccolto tutto questo materiale che è diventato con l'acqua, poltiglia, si è agglomerato ed ha causato in parte tutto quello che abbiamo visto, vedete, è una lunga passeggiata, basta guardare i bordi, ma non solo, anche qui nella parte centrale del vialetto, questo è materiale che abbiamo trovato, che abbiamo visto anche noi alla borgata, l'avete fotografato anche voi vicino alle Grate, insomma, se davvero allora prende corpo questa ipotesi, che c'è stata anche una dimenticanza nel pulire quello che era stato potato, tagliato, beh, forse bisogna capire esattamente in quella catena di comando, in quel sistema, cosa non ha funzionato, perché una situazione di questo tipo, guardate cosa c'è anche lì, lì in fondo, francamente è difficile da raccontare, da crederci e da commentare. Ora, può anche essere vero che in realtà qualcuno forse avrà scambiato la zona della balza come aria comoda per disfarsi, disfalci, però vedete, insomma, la situazione, quella che vi stiamo raccontando, un po' dappertutto, qui diventa addirittura esagerata, poi ci sono bottiglie di plastica, altri rifiuti, è chiaro, insomma, qui la responsabilità, se di responsabilità vogliamo parlare, la vogliamo trovare, deve essere distribuita fra tutti gli attori, di questo che è evidente, credo a questo punto sia davvero innegabile, però considerando, vedendo anche il marciapiede sotto, gli alberi, e siamo, guardate, l'altro tombino, l'altra catitoia, e siamo ormai a 48 ore, oltre 48 ore dall'intenso fenomeno piovasco. Ora, che qualcosa, ripeto, nella catena di comando, nel sistema, anche post emergenza, non abbia funzionato a dovere, è piuttosto evidente, però di fronte a questa scena qua, a me viene da dire soltanto una cosa, questa è una città che si mette in difficoltà da sola, butta sfalci di potatura, dimentica di pulire quello che invece viene potato dalle piante pulito, perché qui c'erano le erbacce, sono state tagliate, e il risultato è questo, ve lo abbiamo raccontato, e poi possiamo stare lì a parlare ore per l'eccezionalità della precipitazione, della sua imprevedibilità, questo francamente è piuttosto prevedibile però se lasci le situazioni a metà.